Qual è la situazione della ricostruzione a Sulmona? La ricostruzione a Sulmona ricalca un po' quello che succede all'Aquila. In più abbiamo problemi dovuti al turnover del personale. Pensate che Sulmona sono dirigenti e sono quasi tutti a scadenza come pensionamento. Inoltre per un lungo periodo nell'ufficio Sisma ci sono state alternanze di personale esterno. Ultimamente c'è stato anche l'avvicendamento da parte del personale di Abruzzo Engineering che è di imminente scadenza. Quindi la ricostruzione se all'Aquila è ferma Sulmona e zona Valle Perigna è ancora più ferma. C'è un altro problema che è quello dell'accavallamento tra ricostruzione pubblica e privata. Ci sono cantieri in cui si intrecciano questi due aspetti. Sì, come già diceva il Presidente, oltre alle problematiche dovute al codice dei contratti pubblici, c'è l'ulteriore problematica in questo genere di edifici quando si accavallano le due proprietà e che vanno un po' su due velocità differenti. Mentre il privato, diciamo, in qualche modo abbiamo potuto verificare che ha avuto contributi per la ricostruzione dell'unità immobiliare, molte volte si trova bloccato in attesa che l'appalto dell'intero immobile parta con il lavoro pubblico. Altra problematica è dovuta anche al fatto che in molte circostanze ci sono piccoli abusi, faccio un esempio per tutti le verande dei balconi chiuse, che creano un ulteriore blocco, cosa che invece per il sisma dovuto a Ischia è stato ampiamente superato con una sorta di condono. Qui invece non è stato possibile.